Bilancio positivo in questi primi dieci mesi del 2019 con 51.191 visitatori per i siti museali gestiti dalla Soprintendenza in provincia di Salerno. Al top la Villa Romana di Minori con 26.992 visitatori. A Salerno città si conferma il complesso monumentale di San Pietro a Corte che con l'ipogeo e la Cappella Sant'Anna ha fatto registrare ben 20.920 visitatori. Bene anche i musei archeologici di Buccino e Sala Consilina.